Per il ciclo meccanico si intende la macinatura di rifiuti plastici in materie prime e secondarie e la conversione in prodotti senza cambiamenti significativi nella struttura chimica del materiale. Per il ciclo organico invece si intende il trattamento biologico controllato, come il compostaggio o la digestione anaerobica, di rifiuti plastici biodegradabili in condizioni anaerobiche o aerobiche. Il trattamento biologico controllato è applicato su rifiuti selezionati che devono contenere solo materiale organico biodegradabile. Le bioplastiche sono ammesse al compostaggio quando rispondono a criteri stabiliti da norme specifiche che definiscono i materiali compostabili. Il riferimento è la norma europea EN 13.432 relativa al riciclo organico degli imballaggi mediante compostaggio. Lo scopo di questa norma è di definire i requisiti tecnici degli imballaggi i cui rifiuti possono essere recuperati mediante il riciclo organico ed è il più importante riferimento tecnico sia per i produttori di materiali, le autorità pubbliche, i compostatori, i certificatori e i consumatori.